Torna la violenza in Israele. Nella notte un attacco terroristico ha colpito il cuore di Tel Aviv. Due persone sono morte, mentre altre sono rimaste ferite. Si tratta del quarto attentato in poco più di due settimane. Secondo quanto riferito dalla polizia, almeno due persone hanno aperto il fuoco in tre posti diversi nei pressi di via Dizengof, la zona della Movida di Tel Aviv, piena di bar e ristoranti. Uno degli autori è stato individuato e ucciso dalla polizia. Secondo fonti israeliane, si tratta di un palestinese che ha aperto il fuoco sugli inseguitori. La situazione del paese è molto tesa, anche perché è in corso il Ramadan e ci si prepara la Pasqua ebraica. Stamattina sono tornato a casa, subito dopo l'attentato terroristico. La sensazione di insicurezza nelle strade di Tel Aviv racconta questo giovane ingegnere, che però dice che probabilmente continuerà a uscire e andare nei bar. In seguito a questi attentati, le forze dell'ordine e i servizi di sicurezza interna hanno messo in campo una vasta operazione antiterrorismo, in cui sarebbero già stati arrestati dozzine di fiancheggiatori di gruppi vicini all'ISIS. Grazie. 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 Grazie.